Questa sera è mancata anche un po' di fortuna? Hanno avuto due occasioni, hanno fatto gol, bravi, complimenti a loro, noi non abbiamo fatto una buona partita, stop, c'è poco da dire. Cosa è mancato secondo lei? È mancato molto lento, troppo lenti, contro una squadra chiusa come la loro dovevamo essere molto più veloci, sicuramente non una buona prova anche singolarmente di tanti giocatori, purtroppo nel calcio ci sta. E poi regaliamo comunque ogni domenica 3-4 giocatori agli avversari, quindi non è neanche questo da dimenticare, purtroppo è così. Adesso godiamoci comunque le feste di Natale, direi che è stato un anno impegnativo per tutti. Siamo comunque felici, io sono felice di natura, positivo di natura. Quindi ho detto anche ai ragazzi che ci sono le nostre famiglie, adesso dobbiamo stare con le nostre famiglie e ci riportano un po' di serenità. È stata presa perché volevo, non avendo Tortori, che diciamo che è l'uomo che ci consente di fare un 4-3-3 pulito, pulito. Non abbiamo un altro giocatore con quelle caratteristiche, avevo già provato guerra ma non è nelle sue caratteristiche, il greco non è nelle sue caratteristiche, ho provato a cambiare qualcosa con Bracca dietro le due punte, sperando di trovare un guizzo o qualcosa, sapendo che loro sono molto chiusi. D'altronde non ho un vero sostituto e quindi sono stato un po' obbligato a cambiare qualcosa. Ci si prova, non è andata bene, peccato, ma non è che avessi tantissime soluzioni. Mister, per l'è stato un 2015 importante, intenso anche dal punto di vista personale. Gli fai gli auguri ai nostri tifosi perché sarà e dovremo prepararci un 2016 pimpante più che mai? Decisamente faccio tantissimo auguri a tutti i tifosi della Feralpi di vivere un felice e sereno Natale e che auguro ovviamente un 2016 pieno di soddisfazioni.